audace amici youtube grazie sto avendo dei problemi con la registrazione vediamo se riusciamo a registrare andiamo avanti carriera con l'udinese rosario zappiè che va via dal sassuolo e va l'udinese vince 4 partite 5 e deve perdere contro il napoli andiamo avanti c'è l'udinese atalanta con l'udinese che rimane dodicesima ci gioca il blue energy stadium vediamo l'atalanta se riesce a vincere e comunque ragazzi l'udinese è una squadra che zarraga a che gol dell'udinese torna il gol a che 1 a 0 per l'udinese sono a gol napoli ha fatto buona partita ma non è abbastata comunque la squadra atalanta è pienamente fuori dall'europa asalic okoye calcio d'angolo l'udinese novenna zarraga scamacca scamacca a che brenner brenner nooo la perde palomino palomino uuuh attenzione lunga 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 zapata zapata è tornato zapatone è scemale però anche scamacca covalenco 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 scamacca attenzione cabasele e bosele attenzione vediamo e brenner ci prova l'udinese ci prova brenner trova il gol al novantesimo l'udinese la deve vincere vince l'udinese contro l'atalanta e trova di nuovo la vittoria la quarta vittoria casalinga nell'udinese ragazzi il napoli che batte la juve napoli in questo momento in forma udinese decima ragazzi e c'è udinese fiorentina in casa partita della verità la fiorentina è forte ma c'è l'udinese si sta riprendendo da una squadra totalmente diversa verso soltanto contro il napoli siamo alla trentaduesima giornata mancano sei giornate l'udinese deve vincere tutte e sei per sperare nell'europa almeno deve sperare in una conference league barack attenzione coro di nasa sottil 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 traversa pigliola sbaglia però sbaglia anche sottil allora lovric dove 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 christensen calcio d'angolo meglio udinese brenner e la da dietro per ac calcio d'angolo subito udinese ancora brenner attenzione all'udinese che va nettamente meglio oh brenner poi come parisi attenzione all'udinese poi parisi c'è guarda sì se solo vola in champions league tovanna poi brenner christensen arrabbiato christensen attenzione è solo udinese questa partita christensen asina lovric che apre per la cavasele a brenner no bravo qua wallace è praticamente solo udinese brenner 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 quanti gol sta facendo 1-0 per l'udinese contro la fiorentina rock si sentono i tifosi dell'udinese udinese tornata al decimo posto parisi bravo sottilla poi attenzione in zona occhio la fiorentina paghero poi emery barack sottilla barack mamma mia provare a ripartire dalla fiorentina che si vede dalle poi occhio bravo occhio ragazzi portiere fondamentale nell'ultima giornata sottilla attenzione zai emery meglio adesso la fiorentina proprio nel momento in cui okoye wallace masina zarraga calcio di punizione ventitresimo ventiquattresimo brem eh christine sta tenendo in piedi sta partita yorko 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 lo sapevo 1-1 1-1 ragazzi che giocatore anche lui segnato segnato icone facendo un gran gol questo momento ragazzi è una bellissima partita e poi brenner subito in vantaggio udinese non trova mai la voglia di arrendersi da quando c'è il nuovo allenatore zio rossa marac sai lemary 21 gol per brenner con ciò fi non riusciva neanche a segnare zola ehi ma stai facendo la rai no ah e allora si però sto registrando okoyer no no capacele zola zola uo coi e okoyer mamma mia anna al quarta crodina se ci prova parisi sottilla amary uo coi uo coi uo coi facciamo uo coi uo coi partire di tovenna tovenna per brand un quarto brenner brenner c'è il primo tempo di nasi 2 fiorentina 1 un po di morte vettila che ti devo dire rannar tovana zanemari comunque la fiorentina sta cercando di pareggiare l'attenzione emery lo coglie e poi due pari mannaggia ci sta ci sta la fiorentina bella squadra stanca anche l'udinese ha fatto una partita importante brenner mina la fiorentina c'è ancora la fiorentina ahhh che è christensen che è giocatore christensen bel portiere ma c'è ancora c'è ancora sono toven toven ahhh peccato l'udinese Però sta giocando una buona partita L'ultima Priciolo Wallace Brenner Povic Che è Wallace 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 In mezzo Toven Toven E poi Christensen Le para tutte No Zolan Zola 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 Ocoglie Mamma mia Prossima Spezia Udinese 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 Zola Zola Udinese Udinese Comunque Barac Barac Fuori Mamma mia L'Udinese Con un po' di rischi Se li prende Zola Due Eeeh Barac Eeeh Barac Zimbese Stanca Mamma mia Zola fuori Ok Ok 3 a 2 Udinese Ma che partita l'Udinese ragazzi Non molla un centimetro Udinese 3 Fiorentina 2 Iorco Iorco Icone Masina Sta uscendo adesso la squadra di Zio Rosso Poi Martina Squarta Prossima Fiorentina Stonevilla Conference League Ocoglie Mamma mia Le para tutte Ocoglie E poi Eh vabbè ma ragazzi La Fiorentina Merita il pari Per come sta giocando Ancora Con Icone Con Icone Oh Mamma mia che Che giocatore E a che ragazzi 4-3 Se a Udine si torna A credere all'Europa Rock Guard Guard Emery Brenner Che partita di Abraham E poi vicino Al 5-3 Dentro Beltran Fuori Inzola Giard Mannaggia però La Fiorentina C'ha più Ocogh Salvando Lo portiere Dell'Udinese Lovric Beltran 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 Precalo Emery Coglie Quarta Icone Icone Ocoglie Ocoglie Lepara tutto Ocoglie Ragazzi Chiolla Ocoglie Zarraga Core Icone Poi Pagero Poi Brenner Lovric 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 Fuori Novantese Novantesimo Udinese Quattro Fiorentina Tre Dejard Wallace Barak Beltran 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 Ocoglie Impazzito Ocoglie Ragazzi Ollas C'è anche il portiere E vince L'Udinese Vince L'Udinese Che partita L'Udinese Ragazzi Che crede Ancora Nell'Europa L'Udinese 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 C'è L'Udinese 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 Gioca Gioca al picco C'è anche l'Udinese C'è anche l'Udinese C'è anche l'Udinese C'è anche l'Udinese L'Udinese Che arriva Masina Bravo Masina Che Uh Bella per Brenner 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 1-0 Udinese Che sta giocando C'è anche l'Udinese Udinese Brenner doppietta l'audinese che sale a 43 punti arder cristo pellegrino Brenner a che vicino altre azioni c'è l'audinese ed è di nuovo la quarta vittoria consecutiva dopo aver perso con napoli l'audinese ragazzi non conosce più sconfitte male decima l'audinese ragazzi devo vedere anche il calendario dell'audinese Empoli poi Frosinone Milan in casa e poi Verona e Parma ragazzi sono fattibili le ultime sei giornate vediamo se riusciamo ancora a fare Empoli alvarato sembrano andar via piccola piccola qualche problemi lo sapevo quando ero piccola e facciamo anche così come fai tu adesso senti cosa si sente trac 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 si gioca in casa l'u energy tifosi e l'udinese sperano nell'europa ancora dopo sei giornate praticamente l'udinese deve vincere tutte quattro giornate appunto il gasi calcio di punizione per l'empoli ragazzi solo l'empoli fino a qui queste sono le partite più pericolose per l'udinese gasi gasi l'ho detto ragazzi ma perchè l'empoli è una squadra rognosa è solo praticamente l'empoli sta giocando gugliello è meglio adesso l'udinese deve trovare subito il pari a che per poco norvaff peccato a che punto panini che sono dei panini questi qua stragerete ragazzi questa secondo me può essere una sconfitta per l'udinese o coi scello d'anglodinese vediamo un attimo come si chiama cali 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 alexa messi cali brenner brenner caputo e malato detto l'empoli ragazzi è una squadra rognosa rognosa eh purtroppo questa partita si deve perdere brenner mannaggia due contropiedi me li fa gestire lunga ma non basta non basta e vince l'empoli vince l'empoli ragazzi sto un problema per l'udinese ma soprattutto in casa rimane decimo non lo vuoi sentire non me ricordo quello là questa è chiara questa è chiara questa è chiara è chiara rosinone torna a casa sua zio rosso frosinone brenner che è a la avori gioco mannaggia quando zarraga dove e non fuori mannaggia cuni come contro lo spezia a kai lard preso un altro portiere udinese milan in casa mazzite liocoglie e vince l'udinese torna la vittoria mamma mia inter 3 sa solo 0 male decimo udinese a pari punti col monza violenti però scappa roma altro che sa solo rimane quarto ventus potrebbe essere campione d'italia udinese milan la facciamo nel prossimo episodio bella a tutti e mi piace ciao 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 super